Signore e signori ben ritrovati in questo nuovo video qui su BonzoTV Come al solito il nostro appuntamento giornaliero con Bindikoff Isaac Questa è la puntata numero 4 E vediamo che cosa mi succederà oggi Ieri ero morto abbastanza male Cioè voglio dire ero rimasto un po' deluso Ma non tanto perché me lo sentivi che in quella stanza piccola Mi sarebbe dovuto succedere un qualcosa di amaro E infatti così stato è la mia partita si era conclusa lì Allora vediamo un po' che cosa abbiamo qua Oh qualcosa di interessante oggi Oggi può essere interessante la partita O meglio più interessante delle altre perché visto che ho trovato questo amichetto Non so qual è il mio problema oggi con i frizz Ho dei frizz Ma vabbè continuiamo la partita Allora vediamo un po' come performa questo amichetto Oh 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 Di sicuro io non sono un gran che Però se l'amichetto è meglio Beh diciamo che sono danni in più eh Sono danni in più Comunque sia Allora Oh accidenti Ok va bene Sono stato io subito a rimanere lì Però Se non mi sbaglio abbiamo un cuore da qualche parte Non mi ricordo Vediamo Accidenti Perché ho puntato la bomba Ah ok Comunque lì ci sta una bomba Ottimo Ok Non dovrebbe essere un problema Ma anche se sono dei cacacazzi Questi qua Ok d'accordo Prendiamo questa bomba Al momento sono abbastanza tranquillo Anche perché come sapete Oh per chi non lo sa Io registro maggiormente la mattina Specialmente appena mi sveglio E quindi sono abbastanza ancora Ancora tanto Abbastanza Molto Tranquillo Ok Spero di shottarli tutti Quando erano in fila Comunque Non è stato Però non è Non sta diventando tanto difficile La pratica Per la questione del danno Che mi sta aiutando Il piccolo cosino Opla Ottimo Ok Se ci allineiamo Faremo molto più danno sicuramente Facendo così Ok Ottimo Va bene Vediamo un po' C'è altra roba qua Ok Perfetto Tendiamo una monetina E vediamo un po' Qua c'è il boss Però Facciamo una corsa lì In basso E di conseguenza Andiamo a prendere anche Quell'altro mezzo cuore Che ci stava In quell'altra Stanza dorata E vi prometto Che mi studiano Un po' di più La wiki Perché Se non un macello Io la chiamo Stanza dorata Ma sicuramente Non si chiamerà Stanza dorata Avrà un altro nome Sicuramente Ok Qui ci sta un qualcosa Spero un altro cuore Ottimo E andiamoci a fare Il boss Aspetta C'ho una chiave Va vediamo un po' Sì C'ho una chiave Ma non c'ho I soldi Va bene Ok Ho buttato L'unica chiave Che mi è rimasta Sono stato stupido In realtà Sono stato stupido Dovevo pensare Che lì Servisse i soldi E ho solo tre monite E tre monite Non ci compagno Gemini Dovrebbe essere facile Con il nostro amichetto Ok Oh Ci servirebbe Diciamo Del danno Aumentato In realtà Perché comunque Sì Sono danni aggiuntivi Ma non sono Cioè Oltre a sparare Noi Abbiamo il danno Che crea Il L'amichetto Che non so come si chiama Scriviamo Però Dai Alla fine Poteva essere peggio Eia Dai Ci diamo una mossa Dai Su Su Oh Che stronzo Ma che stronzo Non ci posso credere Ok Che cos'è Dimmi che danno Ma non credo Ti verrà Uh Grande Allora Sicuramente Questa puntata Durerà Ancora un altro po' Con un cuore e mezzo Accidenti Accidenti Non mi beccare Non mi ha beccato Grande Grande Questa mo' è buona Sa bomba Ok Uh E che Un cacatoio Ma se io mi avvicino A quello Mi faccio male Si Però Però mi ha dato un cuore Ti lamenti No Che stupido Allora Ho preso un danno A caso Proprio Potevo anche evitare Vabbè Vedi adesso Mi servirebbe la chiave E non ce l'ho Vediamo un po' Uh Ma automaticamente Mi aumenta anche No Sinceramente Non è qualcosa di buono Perché magari Se vuoi schivare È un problema Se vuoi schivare È un problema Comunque abbiamo trovato Una chiave Dopo scendiamo lì Se vuoi schivare È un problema Perché sei più grande E sei più Catturabile Ok Abbiamo trovato No Lì non ci vado Solo una chiave Vado all'altra stanza Con la dorata Che non so Come si chiama realmente Ma Non fa niente E abbiamo trovato La cacca Toxiblast Più 5 bombe Ok Dovebbe essere Qualche cosa Questa è la bamba Sicuramente Sarà così Non sarà così Cioè che vi dico Testiamo Sì Ha collegato la bomba Alla faccia Oh Niente da fare qui No No Senti L'unica cosa che posso dire È provare a fare Sì Provare a fare Quest'operazione qui Ma non credo Uh E invece L'abbiamo trovato Abbiamo trovato Un contratto Anzi no Non ho un contratto Missing page Ok Eh Non 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 mi chiedete Che cosa Che cosa Che cosa mi da Non mi chiedete Intanto ce l'ho Intanto proviamo Intanto vediamo Eventualmente lo scopriamo Yeah Allora Sti cacca cazzi che jumpano a destra e a sinistra Mi sarebbe piaciuto fare l'assenza della sfida Ma sicuramente Ma sicuramente Non possiamo farla Ah ecco Mi dà un cuore di pietra Ecco 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 Proprio ora mi sono ricordato Allora Abbiamo due chiavi E io Mi andrei A Ad aprire Questa Cassa Uh Caprone Accetti Or Offering Abbiamo trovato il caprone Boh Un'altra chiave Un po' di soldi Va bene Dai Andiamoci a fare sto boss Dai Nel frattempo è diventato un bambinone gigante Dai E vai dal boss Monstro L'appuntamento giornaliero Con il nostro amico monstra Oh 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 Upla Ok Pochi problemi Pochi problemi Va bene Va bene Uh Attenzione Non dovrebbe essere complicato oggi Infatti non ci ha colpito neanche una volta Continuiamo ad arretrare Ormai la tecnica più o meno col consiglio che c'ho qua L'ho capita Basta che Rimango allineato E posso fare I danni Possibili Immaginabili Uh ecco Ok Tutte le statistiche alzate Sono diventato ancora più gigante Cioè Fra un po' Racchiudo tutta la stanza Allora Chiariamo una bella cosa Siccome io non conosco gli oggetti Io li prendo tutti Io li prendo tutti Vediamo per cosa succede Allora Health Back What Ah Mi ha aumentato La parte d'emero E mi ha diminuito La parte angelica Questa invece Spin the back cycle Oddio le palline sono enormi Non so se è dovuto affatto di prima Comunque Vabbè Vediamo se succede qualcosa Poi Dovrò vedere Su qualche wiki Spin The back cycle Qualcosa del genere Vabbè Comunque Rituriamo velocemente questa stanza Ma sentiamo già la differenza Dei danni Confronta prima Amnesia What Ehi giovane Non ti dimentica di piangere ogni tanto Perché stanno Ah la mappa No È un casino È un casino Cioè io ma mi perdo Vabbè Cioè ma mi perdo Ah 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 No sono troppo enorme Questo è un problema Questo è un problema Questo è un problema Sti mom non muoiono poi Oddio Questo 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 è un qualcosa Che aveva Dall'oggetto che ho preso prima Perché mi ha messo un cerchio No vabbè dai Dai Dannazione Ecco Sì vabbè Mi vai a mettere la pillola Lì Ma come cavolo È possibile Ok Perfetto Eh Ma prendiamo una stata a casa Io non so Manco io dove andare Al posto Questi mom Non li prenderò mai Ma mai Dai Non riesco a prenderli Vabbè Eh vabbè C'ho un cuore e mezzo E mi sa Che questo Sarà l'ultimo livello Già me lo sento Me lo Sento Vediamo Ecco Sicuramente è questo Ma 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 te lo dico Eh beh Oh Grandissimo Grandissimo Questo ci proteggerà Molto Ah Questi che Gomitavano i vermi Non l'ho mai visto Accidenti Ma non ci ho fatto manco Casa Alla mosca gigante Che mi girava dietro le spalle Ecco Attenzione Che quello ci giargia Oh Eh What Ma l'ho appena ucciso Ah Ecco La stronzata Abbiamo recuperato Un po' di cuori Beh Per fortuna Vabbè Qui c'è il boss Però voglio vedere Se riesco a trovare Qualche stanza Particolare Qui ci siamo già venuti Qua anche Qua sotto no Infatti Oddio Mi ci argiano Da per tutto Oddio Oddio Mi ci argiano Ok Risolto Uh 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 No Pillola Pills Pills Dai Su Ok 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 Uno sticker Vediamo qua Questa speed Rage up Uh Almeno 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 Abbiamo qualche vantaggio Oh io la prima Non l'ho presa Bomba Arcade Mmm Vabbè Sì mi era indifferente In realtà Comunque Va bene Va bene Vediamo un po' Vediamo un po' Andiamo qua sopra Ok Facciamo Cerchiamo di far sparare Sparare verso questo lato Vediamo se magari Spacca Se è possibile che si spaccano La La porta delle sfide Magari è possibile entrare Eccola No No Ma vengo col cacchio Va bene Non fa niente Arrivederci È stato un piacere Buona giornata Ehm Niente qua Ecco Ecco La La stanza Più stronza Del mondo Dio santo Ho solo Un cuore Amici E io E io E io Ci continuo Andare avanti Continuo Andare avanti Non ci posso Credere Aspetta Allora Ci è andato a bene Però questo Lavoro La prendo come una sfida Potrei trovare qualcosa Di buono Magari Qui ci va davanti Vai Minchia Qualcosa di buono Sì Va bene Torniamo indietro Mi sa che Ehm Vediamo un po' Ah Noi qua abbiamo iniziato Di qua Ci sta la sfida Che non ci fa andare Torniamo indietro di qua Qui Non c'è niente Qui Nient'altro C'è l'assenza del boss Di qua Da ste parti Abbiamo 14 monite Magari possiamo entrare da qua Magari trovare qualcosa Di utile Ehm 15 monite Per le scale Ho trovato due monite Però non so Se prendere le scale O prendere il cuore E assicurarci L'avanzamento della partita Io prendo il cuore Perché al momento Secondo me È la miglior cosa Poi Di qua siamo Andati Sì E andiamo a farci Il boss Ok Gordi Gordi Qualcosa di fattibile Credo Non me lo ricordavo In una stanza così Col vuoto Però Sì Fattibile La scala Sapevo che cosa era Dal primo Isaac Mi ricordo Del fatto che Ti dava la possibilità Accidenti Di Oltre a passare I burroni Di un quadrato Quindi Magari Se trovavo Qualcosa di utile L'avrei potuto Raggiungere Con quella Con quell'aggetto lì Però vabbè Penso di aver fatto La scelta giusta Perché se no A quest'ora Stavo già con Metà Cuore E la partita Sarebbe finita Qui No E invece Non è stata così Ok HP up Abbiamo tre cuori Non mi piacciono Ste casse rosse Infatti Ok Oh Cuore di ferro E ragnetti Va bene Va bene Questa stanza Ci ha garantito Qualche Altro minuto All'interno Della nostra Partita Forse una delle partite Più lunghe Al momento Fammi togliere il mouse Scusate per il mouse Davanti allo schermo Sì Forse una delle partite Più lunghe Però Diciamo Meno Cioè Non meno Cioè Magari Al momento Non ho trovato Niente di particolare In nessuna delle partite Come oggetti Non so se Questo oggetto Del robottino Che mi segue È particolare Però Ma Se ci metto Una bomba qui Cosa si uccide No 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 Ho cambiato Stanza Poteva Ma di dio Ah Quindi se ci passano Sul cerchio Schiattano Bellissimo Abbiamo Abbiamo appena Capito Cosa serviva Quell'altro Cosa Questo Non lo so Madonna Isaac Come è diventato Brutto Ah la bomba è rimasta lì Scoppiamo Ma non succede niente Andiamo avanti Andiamo avanti Abbiamo perso Abbiamo perso i nostri cuori Anzi Il nostro cuore Perché era solo uno Il nostro cuore di ferro Va bene Va bene Ok Un po' di monete Ottimo È diventato Troppo veloce E per questo Ha slittato Porca vacca Ancora Ha slittato E Mi sono ritrovato Nell'altra stanza Dai Su Non Cioè Se devo perdere Devo perdere In una maniera Cioè Decente Perché Siamo arrivati a questo punto Ci vuole un po' Voglio dire Una morte degna Della puntata Che stiamo facendo oggi Mi sto superando Oh No Dai No 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 Intanto Puttiamo una bomba qua Perché abbiamo mezzo cuore Vabbè Lì c'è un'altra bomba La recuperiamo Copriamo qua E via Quelle casse Non so se si distruggono Con altre bombe Io ci proverevo Non fa niente Dell'ultima Infatti Sì Mi ha ridato anche la bomba Ottimo Ritorniamo Ritorniamo Cioè Amnesia Mi rimane su tutti i livelli Perfetto Eh Bella Come cosa Veramente bella Accidenti Veramente Bella Cioè Ho proprio inculato Quell'oggetto Anzi Forse era Era Non me lo ricordo Era un Era un Dannato Una dannata pillola Ok Niente Sicuramente ci starà Qualche stanza segreta Qua L'ultima bomba Niente Sono stupido Sono proprio stupido Ho buttato la bomba A casa Ora vedremo Che mi sarebbe servita Qualc'altra parte Intanto mi faccio Dale Male male Un cuore Un cuore e mezzo Ritorniamo agli alberi Anzi Un cuore Proseguiamo Se no No ragazzi No ragazzi No Oh Grande C'abbiamo il cosino Che spara da una distanza assurda Se non mi sbaglio Dovrebbe sparare anche Dai Colpisci Ottimo Forse questa stanza La riusciamo a superare Cioè Non forse La superiamo Anche le lacrime Arrivano a quella distanza Uh Quanta roba Manca un cuore però The fool Proviamo The fool Sì vabbè Ciao Mi facevi entrare A sto punto Niente Ci ha alimentato Alla prima stanza Forse magari Questo è the fool L'avevo capito Che mi mandavo In una stanza Random Oddio Mo chissà Che cacca Mi caccherà Sto coso Ah beh 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 Risolto Risolto Ok Buono Buono Dai muori Ottimo Via Eh Eh Dai Su Che abbiamo solo Mezzo cuore Dannazione Ci ritroviamo A finire la partita Qui Se no poi Ma non credo Proprio Non credo Proprio Dai Uh Attenzione Attenzione Ottimo Gray Ottimo Direi Ok No vabbè Ragazzi No Due cuori Stanno lì Bli blu Bli blu What No Questi oggetti Io me li devo andare a leggere Oh aspetta Aspetta Meno male che abbiamo il nostro Missing HUD Che ci dice Che Oddio No aspetta Ma spara Vabbè Questo invece che fa Mi diminuisce Comunque questo mi aumenta dalle statistiche Quindi io mi tengo questo Cioè cambia a caso le statistiche Boh Non ho capito Vabbè Ci teniamo questo Allora La stanza del boss Non l'abbiamo ancora trovata Oddio Ci aumenta la roba a casa Vabbè Non mi lamento Comunque È sempre qualcosa in più Uh Dai Su Ok Queste stanze strette Sono un problema Allora Mi conviene eliminare quello nero Perché quello È quello che charge Ok Poi ci stanno Ogni tanto mi spara Si proiettili a caso Così Ok Uh Non mi dire che mi fai qualche dispetto Tu avanziamo Oddio No Qui è la fine È la fine qua È la fine Oh Invece no C'è il boss Allora Se non mi sbaglio Oh C'è mancato veramente poco Allora Ok Andiamo dal boss The fallen Non mi ricordo se l'abbia mai fatto Questo Non l'ho mai fatto Perché non so come si comporta Stiamo con mezzo cuore Oltretutto E Spermo che ci va bene I danni li facciamo I danni li facciamo I danni li facciamo Veramente ragazzi Ci sono i danni Oddio 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 è finita, non ci posso chiedere mancava veramente poco per batterlo sto disgraziato, non mi ricordo manco più come si chiama mannaccia la miseria, però vabbè ragazzi, è stata una bella partita comunque sia, non so se voi l'avete apprezzato spero che l'abbiate l'avete? mamma mi confermi l'abbiate, l'avete? l'avete? vabbè diciamo l'avete apprezzato non fa niente l'avete apprezzata la partita e quindi se l'avete apprezzata lasciate un like e se siete appena arrivati iscrivetevi al canale così potete rimanere sempre aggiornati in qualsiasi video che io pubblicherò, ogni tanto pubblico anche altra roba, però mi sto impegnando ogni giorno di pubblicare un video nuovo su The Building of Isaac, giornalmente fin quando le possibilità me lo permettono e quindi detto questo good luck, have fun, ci vediamo al prossimo video, cioè forse domani, ciao 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 ciao